musica 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 bene ragazzi siamo i granos e siamo tornati con un nuovo gameplay, questo ride, cazzo di ride comunque stiamo provando a mettere il green screen quindi se ci vedete un po' eh non ti muove tanto vabbè io vado eh no non mettere il cappucci modalità incontro vabbè comunque stiamo verso di qua stiamo a provare a fare dei screen ma sono veramente cazzi cazzi acidi io tutto il video farò questo perchè non mi posso muovere io c'ho il carca, devo stare troppo concentrato eh 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 no no così no oh 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 allora ecco l'altro subito va per la cam che cazzo c'è laga? qui c'è fatto la cam l'ultima è Flawless sì 41 a 0 e con la ripresa che sfiga mamma mia incredibili amici allora dove cazzo sei? mamma mia quanto urli eh eh lo so perchè ho i cuffie in senso ma pure adesso sto urlando ma io ti sento ma sto urlando anche adesso sì ma io ti sento perchè devi urlare te non è che ti devi sentire da solo perchè saltellate tutti su sto gioco di merda uh eh uh eh va bene ma questo? ahahah comunque io ho proposto una cosa bellissima ma lui non me l'ha appoggiata quindi neanche vi dirò cos'è nooo non sei buono a giocare ma fai il sito sì ma fai il sito io sto a 5 game e ti stai a 0 io ho avuto ghost per una 0 titoli mamma mia c'è di urlar perché perche perchè ti urlare uu ahahah uu lag mamma mia mi sta affanaticare DYR ho manchi di porcollo tutto ma veramente pure forte riescemente ut Certo, che cazzo ti spari, coglione? 5 gameplay Oh, ma che cazzo? Ma dai Questi spawnano così, cioè, davanti a te proprio Cribbio Comunque, primo, nole con quattro Guarda in alto, guarda, versi là Versi là Dove? Ok, stiamo guardando il gameplay Oddio, oddio Oddio Ma come? Magari abbiamo fatto pure il fail dall'altra parte Sì, no, perché dipende, perché noi stiamo cercando di fare il green screen Però se non viene, mettiamo comunque i quadrini in alto e baffanculo Esatto Però se viene viene una cosa figa Se non viene viene sto coso a crocco verde qua dietro Io sono rimasto ingobbito tutta la partita per niente Però se viene viene una cosa figa Ma Spero venga Vabbè, voi lo sapete già cosa è venuto, io Spero venga Non so se avete capito Lo stesso discorso dei capodanno, gli auguri dei capodanno L'abbiamo fatti prima Dio santo Due assist di seguo A me penso che non mi si sentirà per niente questo gameplay Perché lui urla come le persone Ma infatti, no, senti tu che ti urlavo No, no, non urlo io Non c'è, non Vabbè, anzi, se non gioco L'anzi lamenta se poi in te si sente Ma infatti, non mi sto lamentando In this duck Basta Sta qua sotto Eh Grande Oh E, eh, 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 oh, oh Una cosa Oh, sì Gaming Oh, via Ecco Ma è buona in mente Una bella streamata su un tavolo di poker Ma non sta qua Alza la voce Dove vai Non trovi nemici Sta qua Ma sta qua cosa Sta si Sta qua Sta si Sta qua Io non li trovo Non trovi nemici Mmm Bergh in play Molto ogo noioso direi Ciacallo E diamo Charlie comunque è buono Se perdiamo Charlie è da paura Io su Charlie me la socca va bene Eh beh lui è un fenomeno su Charlie Dai piatti Charlie belli di casa E ora tu esci e li ammazzi tutti Li ammazzi uno Eccoli eh Eccolo ammazzi il vero Ci ha messo troppo a conquistare la bandiera Eccolo qua Sono qui eh? Sì sì mi stavo a cercare Lammertanal Lammertanal A destra Oh 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 Bomber Eccolo dove andato Campera Ora fa finta di non camperare Oh guarda ste cazzo Guarda ste cazzo di lag Ste cazzo Eccolo lo vediamo ora Si è preso al tiro Non ti muove troppo La vita è ingiusta Tanto alla fine sicuramente Non verrà Non verrà quindi Guarda ste pezzo di merda La vita è poco ingiusta Gianni Ottimissimo Il carcere è strano Beppe Giusto giusto Mortacci tua Ma lì per pelo eh Oh 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 dove Ma porco dio ma che non lo vedo Scusate eh sì Eh non lo vedi eh Questo sarà un porco beeper Oh porca troia Ma Era un ricco se mo' bestiamogli Non ci stanno più Fai esplode per favore il Come cazzo si chiama Il distributore Noi non siamo veri gamer No Non vogliamo essere gamer Noi siamo comici che Siamo qui solo per i soldi No per cattolo io sono un comico Di Zelig Non di colorato Colorato mi fa cagare Ci stanno tipo due coglioni I Pampers Ma che pare si chiamano Ah sì quelli la Sì porco dio quanto fanno schifo Eh scusate di nuovo qualcosa Mamma mia E comunque Dicevamo Come sei? Fai esplodere per favore il Fottuto Come cazzo si chiama La benzinaio La Devi morire Oh 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 Mamma mia che mira al culo Mamma mia che l'ha fatta morire Adesso Venga ribeccati qua Venga ribeccati qua Vai vai Si cattivo Oh dove sei? Era lì eh? Dov'hai? Che hai fatto? Perché sei dovuto Sulla scatola? Faccio le provate Eh già Eh già Oh 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 Dicevamo che questo commentary è basato tutto sul fatto che noi stiamo incliccati Sì ma possiamo Non possiamo né ignorare È veramente complicato Spero L'effetto sarà figo Spero che venga altrimenti sicuramente 100% però così proprio fai proprio di tutto per il pallone cioè vai vai oh 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 ecco guarda il laccio del calcio ma perché ti vuoi laccare adesso? non lo so non lacca mai se lo vogliono distrutto loro se lo vogliono faccio i gameplay sta qui dentro? non ci stanno ma tu stanno sta sopra? ma quanti si gioca? oh quel carello ogni volta lo scambio con cosa eccolo mamma mia Daryl che bomber incredibili amici più forte il pato? più forte di pumpers? vabbè quello si loro non sono gamer ah giusto anche tu hai ragione allora stava quello io penso che questo video ha tutti i tagli anche il mio tutti i tagli sarà un taglio tu stai che taglio eh no no non ci posso credere mi sono fatto un finocchià dicevamo mi sono fatto un pamperà oh 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 ma quello perché non subisce un colpo oh se vuoi morire ma vi la fai vaffanculo bello proprio cioè il bello è che poi io non c'ho una mira brutta c'ho tipo il 22% di precisione si vedete perfetto a me mi sta a fammare il colo io spero che finisce presto sta partita è finita è finita è finita il cazzo comunque è che per me parte fanno un gameplay le partite vanno sempre parità sempre combattute sono tutte finali oh ti ho una bibita oh 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 no non mi sputate dentro casa però c'è e dai calcio è strano basta con la fiducia è strano bello si si però diciamo mi fai il 4 oh porca madonna fa male l'occhio vaffanculo però ho fatto 40.000 assist sta partita se c'hai inflessibilità all'inizio giocavi a la chem allora 10 volte all'ora in questo commentary allora commentare più felice dalla storia allora allora sì vabbè felice è entriste c'è la ricomente ma si apri il gameplay sì no è veramente che il percorso è che non ci stanno i nemici vabbè faremo a terra 44 tagli e sfila per due con il resto di due e sfila per due con il resto di due così ma è una matematica non è un'idea non è un'idea vaffanculo ma che davvero ma vaffanculo oh 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 vaffanculo però si assiste del merda oh oh ok questo che cazzo ah è quello della delicoccia ah ok oggi non casca dal cielo così basta con il lag ma infatti c'è ma che cazzo perché sta cosa è tutto il giorno che fa così tutto il giorno lagga un altro assist vai oh 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 ma non ci vedi oggi no no meno male è finita perché c'è sta la luce che viene ancora più bene vai mamma mia sono un fenomeno e oh ma che ammazza quello ah uh vabbè ragazzi il gameplay è finito green o non screen noi ci becchiamo alla prossima e bello ciao ciao